Musica Diciamo che qui è racchiuso tutto quello che di buono c'è in Italia, cioè territorio, prodotto ad altissima qualità, direi quasi ancora artigianale, il cibo che è una cosa che in qualche modo contraddistingue, quindi mi fa immensamente piacere che abbiano deciso di legare i nostri domani. Musica In realtà la nostra azienda fortunatamente in questi ultimi anni sta crescendo, si sta fermando di più sul mercato, quindi con la Salernitana in serie B noi siamo molto legati al territorio. Musica È un'azienda che nasce con l'identità di trasformare quelli che sono i prodotti del territorio, quindi nata con la lavorazione delle aclughe pescate nel Golfo di Salerno, poi negli anni ha ampliato l'assortimento. Musica E la cosa bella è che qui a Salerno di realtà belle, di cose importanti ce ne sono tante. La nostra, il nostro piccolo, è una realtà che ha lanciato per prima in Italia e nel mondo i filetti in vaso di vetro. Musica 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 Musica